In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria Sede Sapienzie, Ora Pronobis. Inizio ora il commento al Vangelo di Domenica prossima, che è il Vangelo della prima Domenica di Passione. Inizia il tempo di Passione. E il Vangelo è quello di San Giovanni al capitolo 8, dal versetto 46 al versetto 59. Gesù si trova nel Tempio di Gerusalemme. Le autorità gli hanno permesso di entrare e di predicare liberamente. Ma naturalmente tutto questo nasconde un tranello. Gesù ha cacciato i venditori dal Tempio, ha fatto questo gesto molto forte e provocatorio, ha insegnato, diverse persone si sono convertite alla sua parola e lo hanno seguito. In tutto questo, dietro le quinte, le autorità lo stanno ad ascoltare. Naturalmente per cercare nelle sue parole un capo di accusa per poi poterlo mettere a morte. L'intenzione ormai è quella. Gesù comincia a dare fastidio. Gesù ha un comportamento che non è irato, non è arrabbiato, non è mosso dall'odio e dalla vendetta verso di loro, verso il loro rifiuto, ma annuncia e afferma con semplicità le verità che lo riguardano per vedere di poterli convertire anche in queste ultime occasioni che rimangono. e fa alcune affermazioni che naturalmente provocano ancora di più l'odio e il rifiuto delle autorità. La prima provocazione è questa. Gesù dice, se vi dico la verità, perché non mi credete? Perché non mi credete? Nonostante tutto quello che avete visto, nonostante tutto quello che avete ascoltato dalla mia bocca, non mi credete ancora? Per quale motivo? E Gesù suggerisce il motivo per cui i giudei, le autorità specialmente dei giudei, non vogliono credere in Lui. E dice, chi è da Dio ascolta la parola di Dio. Se voi non ascoltate è perché non siete da Dio. Ecco, la verità semplice e chiara è questa. Il motivo per cui non credete in me, non vi aprite alla mia parola, è perché non siete da Dio. Se non siete da Dio, da chi provenite? Questo modo di esprimersi essere da, significa che non siete sotto l'influsso di Dio, ma siete sotto l'influsso del nemico di Dio per eccellenza, che è il demonio. Ascoltate le ispirazioni del demonio e obbedite a quelle. Non volete credere in me, perché non siete da Dio. Quando è che una persona non è da Dio? Quando vive nel peccato, quando accetta il peccato, quando giustifica il peccato, quando non è in comunione con il Signore. Basterebbe un atto di pentimento, sapete, basterebbe con umiltà un po' di penitenza e riorientare la propria vita verso la luce di Dio. Ecco, il Signore già ci illuminerebbe con lo Spirito Santo. Ma questi sono ormai chiusi e pertinaci nel loro errore, nel loro rifiuto, nei loro peccati. Essi cercano una gloria umana, cercano degli interessi materiali e vogliono osservare quelli. Non c'è posto in loro per la parola di Dio, non provengono da Dio, ma sono sotto l'influsso del demonio. E poi le provocazioni che vengono dopo da parte del Signore sono questa. In verità, in verità vi dico, chi osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Cioè, Gesù garantisce la vita eterna a chi ascolta la sua parola. E naturalmente i giudei si scandalizzano di fronte a questa affermazione, ma come tu sei capace di offrire l'immortalità a chi crede in te, ma chi pensi di essere sei più grande dei patriarchi, i quali poi sono tutti morti, dai l'immortalità. Ci sembra proprio che sei indemoniato, no? Vi ricordate che nella Genesi il diavolo aveva detto ad Eva anche se mangerete del frutto dell'albero non morirete. E quindi lo accusano di essere indemoniato. Ma Gesù risponde con un'affermazione prima che Abramo fosse io sono. Cioè, sono molto superiore ai patriarchi. Gesù dice con tranquillità ormai la verità com'è. e gioca le sue ultime carte perché possano credere, ma in realtà è sempre peggio. Prima che Abramo fosse io sono, io sono. Io sono è il nome di Dio, Yahweh, colui che è. E quindi Gesù ha affermato di essere come Dio, di essere Dio. In effetti è la seconda persona della Santissima Trinità incarnata. e quindi presero allora dei sassi per gettargli, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. E uscì dal Tempio. Come ha fatto Gesù a nascondersi in quel momento? È vero che c'erano tante persone ad evitare la lapidazione, ma è quasi un miracolo. È forse proprio un miracolo. Gesù con la sua potenza si è reso proprio introvabile alla loro ricerca ed è sfuggito alla morte perché lui non muore quando vogliono gli altri, ma quando il Padre decide che questo possa avvenire. Egli è potente, Egli è il vivente, Egli è la verità, Egli dà la vita eterna. Sialo dato, Gesù Cristo. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.